buongiorno buongiorno a tutti carissimi bentornati in questo nostro spazio di riflessione condivisione oggi 15 febbraio 2022 un ennesimo giorno vergognoso tremendamente triste da aggiungere ahimè a quei tanti giorni simili che abbiamo visto in questi ultimi due anni ecco io so che alcune persone si stanno anche chiedendo e perché considerando che non hanno la minima consapevolezza di tutto ciò che sta accadendo o meglio vedono tutto ciò che sta accadendo come normale però vi prego prego anche queste persone qualora iniziassero a percepire subito una resistenza rispetto alle prime cose che dirò di provare una volta nella loro vita aggiungere alla fine di un ragionamento nonostante il parlare del soggetto vada contro le loro convinzioni è un qualcosa di meraviglioso a volte riuscire ad ascoltare anche chi di primo acchito non ci sembra in linea con il nostro pensare allora oggi rifletteremo un po su quello che sta accadendo su questo ennesimo tassello di un puzzle pensato strutturato pianificato da tempo cioè l'introduzione dell'obbligo vaccinale ora anche sottolineo ora anche sottolineo dieci volte per gli over 50 perché questa assurdità compiuta solo in italia unicamente in italia forse appunto ecco già qui vorrei dire a queste persone non vi fa un po pensare non vi fa pensare tutta la rabbia e la divisione che è stata creata in questo paese e solo in questo paese evidentemente non era così necessaria questa cosa questa violenza questa discriminazione queste strane cose che hanno iniziato a sostenere se in tutti gli altri paesi non sono state fatte non erano necessarie ma erano utili per degli scopi e allora ora anche perché siamo passati per l'obbligo vaccinale dei sanitari delle forze armate delle forze dell'ordine dell'esercito i vigili del fuoco insomma hanno colpito un po alla volta gradualmente diverse categorie i professori il mondo scuola perché se fosse stato fatto tutto in un unico momento probabilmente il numero delle persone contrarie che potevano anche manifestare esprimere il loro no sarebbe stato evidente troppo evidente troppo scioccante anche per quell'opinione pubblica che continua a dormire sino a quando le manifestazioni sono fossero anche di 50 70 100 mila persone abbiamo visto beh riescono a contenere il dissenso e questa cosa la sanno molto bene perché come ho detto mille volte il livello di consapevolezza medio e molto basso il livello di conoscenze con sapevolezza mi sembra una parola troppo grande di conoscenze da parte dell'intelligence dei nuclei dei nuclei più tattici più efficaci di esercito di servizi segreti è veramente enormemente più avanti rispetto alla capacità di comprendere della media delle persone e questo è anche un fantastico risultato certo delle famiglie ma anche della scuola della cultura che non produce più intuizione capacità di comprensione ma produce degli esecutori vediamo anche quei poveri giovani che hanno manifestato unicamente per esprimere il loro dissenso rispetto all'alternanza scuola lavoro sono stati brutalmente picchiati ma stiamo notando che gli stati europei attraverso certi nuclei appunto di intervento particolari iniziano sempre più ad intervenire con violenza e che siano minori donne vecchi uomini in forze poco cambia hanno proprio questa dissociazione sono completamente staccati dalla percezione del male che compiono e sono staccati scollegati dalla loro umanità e questo è il processo che sta andando avanti da tanto tanto tempo ahimè e che poi inevitabilmente produce i suoi risultati offre i suoi frutti la società che stiamo vivendo allora fra un secondo parleremo di queste di questa situazione sono veramente nauseato e stufo di parlare di tutto ciò però in alcuni momenti almeno è bene ritornare almeno perché rimanga testimonianza del mio dell'essermi totalmente dissociato e dell'aver fatto tutto il possibile per aprire gli occhi sigla e poi ne parliamo allora noi stiamo osservando questa progressione mentre il mondo intero sembra cercare di liberarsi dalla morsa del controllo tecno sanitario il mondo intero vorrei ripetere a questa grande a questo gran numero di italiani che dormono sta cercando di liberarsi si sta opponendo dal canna dall'australia a tanti paesi che non hanno mai accettato un intervento così violento all'interno delle loro vite delle loro democrazie costituzioni e relazioni perché qui abbiamo anche distrutto famiglie relazioni affetti abbiamo violentato psicologicamente abusato dei minori l'abbiamo visto molte volte allora noi qui stiamo assistendo come anestetizzati ipnotizzati come zombie ad un esperimento unico ed ecco che arriva l'ultimo tassello l'obbligo vaccinale per gli over 50 hanno fatto le cose a passetti in modo da vincere la naturale resistenza di un rapido cambiamento chiaramente insensato ed eccoci qui niente le cose non sono cambiate semplicemente alcune persone resistono ad oltranza altre persone cedono cadono forse anche perché non hanno nessuna forma di sostegno da parte di molti loro concittadini anzi alcuni concittadini stanno lavorando per finire quella parte che resiste finire e questo lavoro probabilmente lo fanno inconsapevolmente ormai ipnotizzati nonostante le ricerche più accurate pubblicate anche sui più maggiori giornali scientifici del mondo come l'anset come science demoliscono alle radici l'impianto di risposta del governo italiano rispetto a questa emergenza è un impianto che si basa sull'idea che chi non ha fatto l'inoculazione è pericoloso per chi l'ha fatta pertanto tutti devono essere inoculati eccetera abbiamo visto in altri momenti chiaramente queste ricerche pubblicate che hanno probabilmente anche permesso ad altri paesi di evitare di giungere a questa situazione squisitamente italiana di violenza di stato applicata a quella fascia di popolazione che desidera fare un'altra scelta terapeutica punto ebbene qui la scienza è stata pervertita sovvertita queste ricerche non interessano svaniscono nel nulla svaniscono anche i dati ad esempio che dicono che la terza inoculazione è estremamente controproducente quindi bisognava anche si sarebbe dovuto avvisare un po la popolazione noi invece sentiamo persone ancora vaneggiare a parlare di una quarta a ottobre novembre di una recrudescenza e ragazzi se questo veramente la rana bollita o essere proprio non lo so allora questa è l'infamia di questo giorno desidero comunicare la mia totale indignazione il mio schifo il mio disprezzo totale per questo sistema e per chi lo rappresenta e le mie intense preghiere affinché tutto ciò si fermi e affinché queste persone paghino di fronte alla giustizia allora vorrei riprendere due tre punti e poi salutarvi era il 22 maggio 2020 quando pubblicavo un primo video che vi metterò qui sotto metterò il link che si intitolava italia verso l'incubo democrazia cinese in questo video riprendevo uno speciale di petrolio dove si faceva vedere come in cina fosse già da tempo applicato un controllo sociale totale attraverso quello che viene definito il credito sociale girato dai nostri colleghi francesi che racconta quanto siano capaci i cinesi di diciamo di fare non solo contact tracing ma proprio di imporre un vero e proprio stile di vita grazie al controllo diciamo elettronico no hanno creato una vera propria intelligence interna capace di traccare ogni singolo comportamento dandogli anche un vuoto e proprio e questo probabilmente spiega anche le loro capacità e il successo che hanno avuto nel controllo se la regia è pronta vorrei mostrarvi questo formidabile reportage guardate quando ha compiuto 18 anni junglo ha ricevuto un credito di mille punti che varia a seconda delle sue azioni gettare un pezzo di carta per terra è un atto di inciviltà che le costa 50 punti attraversale con rosso meno 100 punti ma se junglo decide di aiutare il prossimo ad esempio donando il sangue il suo credito risale 900 punti segnala la presenza di un delinquente alla polizia il suo credito sale fino a 1100 punti da questo credito dipende il suo posto nella società al di sotto di una certa soglia rischia di non avere più un'esistenza sociale vi sembra incredibile eppure questo sistema di classificazione sociale esiste già viene testato in 43 città della cina e serve per schedare gli abitanti si chiama credito sociale chi non rispetta le regole viene sanzionato e talvolta umiliato pubblicamente come succede in questo cinema dove le foto dei reietti sono mostrate a tutti in un'altra città è stata imposta una suoneria telefonica speciale che imita la sirena della polizia la cina sta mettendo a punto una serie di strumenti per una sorveglianza totale il paese più popoloso del mondo può controllare ognuno dei suoi cittadini un miliardo e 390 milioni ecco giovanna un fortissimo controllo sociale direi potremmo dire diciamo no che ha consentito poi sappiamo tutta vuan il controllo del virus diciamo no da un certo punto di vista il vantaggio di un sistema così diciamo controllato è evidente in questo caso no sono rimasto abbastanza stupito quando l'altro giorno vaneggiavano attraverso una trasmissione televisiva proprio su questo problema si chiedevano se il continuo utilizzo di restrizioni il green pass ora da alcuni proposto come soluzione illimitata e la tecnologia che sta divenendo sempre più pervasiva grazie a questo green pass ad esempio entrare in banca, posta sono già presenti questi totem ben pensati quindi non possono essere stati fatti ieri capite che permettono alla persona di accedere o non accedere attraverso tutto un sistema che sta diventando sempre più complesso e pervasivo se lo chiedono due anni dopo non che io fossi veggente il 22 maggio 2020 semplicemente forse fra quei pochi effettivamente sì questo mi dispiace dirlo non mi inorgoglisce quei pochi che iniziavano a percepire un pericolo estremo dettato dalla narrativa che il potere e l'informazione utilizzavano una narrativa estremamente edulcorata viziata che faceva passare alcune cose terribilmente incompatibili con la carta costituzionale e le democrazie occidentali come cose utili, importanti che ci avrebbero cambiato la vita tutto ciò cavalcando l'emergenza coronavirus per chi aveva un po' di orecchie per intendere, occhi per vedere le cose erano piuttosto chiare e nette allora vorrei leggervi un secondo un passaggio piuttosto assurdo cioè inaccettabile dovrebbe essere tutto ciò in un paese normale ma ahimè normali non lo siamo forse mai stati di recente proprio allora qui finanza ne ho preso uno per tutti tanto su tutti uguali obbligo vaccino per lavoratori over 50 dal 15 febbraio tutte le regole e le sanzioni cioè già questo le regole e le sanzioni vediamo se il resto del mondo riuscirà a spostare questo stato psicotico italiano o l'Italia se riusciranno a radarla completamente al suolo rimarrà un punto di riferimento per tutti quei poteri che cercano di fare le stesse cose negli altri paesi soprattutto in unione europea e nei paesi in alcuni paesi americani vediamo perché questa è veramente una battaglia fra la libertà la consapevolezza le democrazia o almeno l'impianto democratico costituzionale che noi conosciamo e uno stravolgimento diretto all'instaurazione di finti stati fantocci narrati democratici costituzionali gestiti da oligarchie transnazionali i poteri forti come faceva quel cretino cercava di far ridere attraverso come si chiama quella schifezza Sanremo e vorrei ricordare che anche Mattarella nel suo discorso di insediamento non so come mai ogni tanto un po' di verità la devi per forza dire ha fatto presente dell'esistenza di poteri forti che cercano di pervertire, di corropere le nostre democrazie io avrei voluto dire presidente le nostre democrazie sono profondamente corrotte da tanto tempo temo che in questa fase stiano andando in putrefazione comunque per tutti i lavoratori che hanno dei 50 anni in su sia del settore pubblico che di quello privato a partire dal 15 febbraio vige l'obbligo di vaccinazione il primo passo verso il ritorno alla normalità sembra se non ci saranno altre varianti come avverte l'OMS e Ricciardi pochi minuti fa perché a ottobre potrebbero esserci altre varianti non si possono più togliere non va tolto il green pass questo dicono però sempre che non ci saranno altre varianti vi rendete conto? quindi potenzialmente è infinita questa cosa la storia ci ha mostrato pandemie che non duravano più di un anno un anno e mezzo siamo già oltre ogni cosa che è stata conosciuta dall'esperienza umana eppure tutto oggi è normale e va bene così è stato il primo passo verso la libertà è stato quello di togliere l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto anche qui scusate ma discutevo l'altro giorno con una persona alla fine se usa il buon senso si fa fatica ad andare contro il buon senso non hanno fatto niente prima dicevano che la mascherina era obbligatoria se all'aperto se si era vicini se c'erano assembramenti poi hanno detto da adesso non è più obbligatoria salvo in caso ci siano assembramenti per bacco un minimo di analisi logica hanno semplicemente modificato la struttura della frase e creano una specie di illusione percettiva mentale, psicologica sembra che abbiano cambiato qualcosa non hanno cambiato niente poi è arrivata la riapertura delle discoteche e ora trova spazio all'ipotesi dell'addio al Green Pass anche se sulle date c'è ancora grande incertezza mentre in un primo momento sembrava che l'esecutivo spingesse per eliminarlo già in primavera in concomitanza magari con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo o anche prima ora sembra più plausibile l'ipotesi che si vada all'estate il Green Pass probabilmente continuerà a essere richiesto almeno nei luoghi pubblici no dove cazzo me lo vuoi chiedere a casa mia me lo chiedi anche oltre il 15 giugno ok forse intendono nei luoghi privati non viene richiesto sì ho capito ma la vita l'hai resa impossibile attraverso a quelle persone che non hanno il Green Pass o ad un certo punto desiderano che si interrompa questa cosa perché magari hanno fatto due dosi non ne vogliono sapere della terza l'hanno fatto la terza ma perché gliela ha imposta e non vogliono il Green Pass o magari non gliela ha imposta hanno tre dosi ma vorrebbero tornare ad uscire con i loro amici che ne hanno due insomma è allucinante e ridicolo quello che stanno facendo e in tv ti continuano a raccontare che c'è gente che vuole il Green Pass per sempre lo desidera è bellissimo è bellissimo mostrarlo in giro come se stessero mostrando un gadget un qualcosa di grande valore popolo questi soggetti stanno male sono entrati dentro lo stato veramente di complicanza psichica il Green Pass probabilmente continuerà ad essere richiesto almeno nei luoghi pubblici anche oltre il 15 giugno noto periodo in cui le malattie si diffondono in maniera potentissima il primo anno quando era esplosa questa pandemia vi ricordate giugno, luglio, agosto stavamo tutti serenissimi mi fa piacere che dopo due anni dopo tre dosi in alcuni paesi dopo quattro dosi il dramma sia ancora lì ditemi voi alcuni parlano di un'inoculazione periodica per poter far vivere le persone non si è mai sentita una cosa in tutta la storia della medicina della virologia dell'immunologia ma da un po' di tempo la nuova scienza ha proposto veramente paradigmi completamente altri moderni trendy cool fashion eccetera progressive date in cui terminano l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 il 15 giugno allora il 15 giugno fanno terminare tutti gli obblighi di vaccinazione eccetera e probabilmente diranno guardate come è andata bene avendo vaccinato tutti guardate a giugno come si sta bene a giugno come hanno fatto l'estate scorsa quando avevano iniziato le prime inoculazioni e verso luglio iniziarono a dire guardate che risultati incredibili senza però andare ad osservare bene i dati che ci facevano vedere un aumento dei contagi rispetto all'estate precedente quindi vediamo quest'estate cosa succederà mi preoccupa onestamente ma non tanto per la realtà dei fatti ma per il racconto che potranno fare mi preoccupa ottobre novembre mi preoccupano molto 2022 perché appunto Ricciardi l'OMS e altri soggetti di questa caratura stanno già iniziando a parlare di tremende possibili nuove varianti per lasciar perdere poi quel soggetto che ha miliardi di interessi in tutti i sensi affinché continuino queste cose profetizza cioè Bill Gates and company e che dice che arriverà una pandemia ancora più drammatica virulenta eccetera non ne usciamo più ora un essere umano medio senziente dovrebbe essersi accorto della truffa perpetua il sistema per quello ho iniziato questo video parlandovi della Cina un sistema di controllo che viene inoculato in maniera nemmeno tanto lenta però con i giusti passaggi nei giusti momenti viene inoculato nella psiche del del mondo occidentale un mondo che ha conosciuto forse le più grandi aperture i più grandi equilibri imperfetto un sistema imperfetto costituzione imperfette ma soprattutto non tanto le costituzioni o le democrazie imperfetto è il livello di consapevolezza perché non siamo cresciuti abbiamo costruito un impianto costituzionale democratico anche buono però sapete voi potete avere le leggi migliori come una macchina la macchina più sicura potente del mondo ma se chi guida è un folle con quella macchina puoi fare una rapina con quella macchina puoi investire le persone o puoi schiantarti a 100 250 all'ora contro un muro ecco allora che avere le migliori leggi se non hai anche un cuore una consapevolezza sufficientemente sviluppati è inutile a volte puoi avere delle leggi estremamente scarse scarne limitate ma se c'è cuore riesci a gestire bellissimo un paese perché più cuore c'è più consapevolezza e cultura c'è meno c'è il problema di controllare di costruire continui controlli leggi norme eccetera noi siamo finiti nella follia delle norme che controllano le norme i controllori che controllano i controllori e tutti sono sempre più corrotti bene quindi ci tenevo a dire beh intanto se volete guardare qui sotto vi metto il link di quel video dove analizzavo petrolio questa trasmissione Rai dove quasi celebravano ad un certo punto la dittatura cinese auspicando che giungesse anche qui in questo 15 febbraio 2022 ci tengo a come è successo nei diversi step di caduta della nostra consapevolezza della nostra democrazia ci tengo ad esprimere il mio totale disgusto dissenso disprezzo per ciò che viene fatto per questo governo tutto governo e finta opposizione perché è talmente chiaro che è tutta una costruzione veramente veramente teatrale un carissimo abbraccio a tutti ci vediamo al prossimo video ciao